Buongiorno mister, dalla Forciniti Corriere dell'Umbria, due domande se possibile, le chiedo innanzitutto come stanno di serio Angella e com'è la situazione relativa agli eventuali indisponibili in generale e poi in settimana il presidente Santopadre nei suoi confronti ha speso parole molto importanti, molto pesanti, le chiedo insomma quali sono le sue sensazioni, cosa ha provato, insomma sentendo quanto ha dichiarato il presidente, grazie. Allora per quanto riguarda la prima domanda la risposta è che Diserio e Angella sono convocati quindi sono disponibili, chiaro poi sul minutaccio valuteremo al momento, non c'è Olivieri che oltre a Rosi e Curado che sono squalificati, quindi per il resto la squadra è anche cong, scusate anche cong, però abbiamo integrato nelle convocazioni due ragazzi da primavera come Baldi e Sagheti. Per quanto riguarda la seconda domanda le parole al presidente Santopadre mi hanno fatto piacere anche se magari non ce n'era bisogno nel senso che i rapporti fra sono stati sempre più che buoni, quindi lo ringrazio, mi ha fatto piacere, però ecco è una cosa che io non ho mai dubitato dell'esternazione del presidente che comunque sono state importanti per magari sedare un po' alcune cose che possono uscire in un momento delicato del campionato dove si possono un po' restabilizzare le posizioni, ecco tutto qui. Carlo Giulietti, mancano dieci partite, dieci finali, lo sappiamo, è necessario ripeterlo, domani contro la Regina è una gara importantissima, anche perché ci sono nell'ambito di questa giornata tre scontri diretti che praticamente ci interessano le avvicini, come la inquadri questa partita? Ma io la inquadro che noi dobbiamo pensare a noi e non ai scontri diretti perché il campionato di servizio ci ha insegnato che tutte le partite sono difficili appunto perché è un campionato molto equilibrato, molto livellato, quindi parlare di scontri diretti al momento, nel senso quello che dice Odier, in questo momento la classifica può essere vero, però secondo me lasciano molto il tempo che trovano perché le valutazioni complessive andranno fatte alla fine, poi il campionato ci ha insegnato che questo grande equilibrio ognuno può fare sudato con tutti come può perdere con tutti, quindi pensiamo a noi, noi siamo carichi al punto giusto, abbiamo fatto una buona settimana sotto l'aspetto del lavoro e dopo le tre partite in otto giorni, secondo me questa partita qui abbiamo la gamba migliore rispetto, chiaro che tre partite comunque un po' si pagano, questa settimana ci ha servito per recuperare energie sia fisica che mentale, quindi mi sento di dire che domani il Perugia, secondo le mie previsioni, è chiaro poi sarà il campo a smentirlo, confermarle, farà la sua partita come sa fare a livello di ritmo, intensità e di applicazione in campo. Anche perché recuperando certi elementi praticamente cambia anche tutto. E certo, la migliore efficienza a livello di gestione della rosa in questo momento è importante perché anche uno possa dare un contributo per un frazionato di partita diventa utile nell'economia generale. Sì, buongiorno mister, corrado lo sito del messaggero. Tornando previstiamente sulla partita della scorsa settimana, che cos'è che non l'ha convinta? Se c'è qualcosa che non l'ha convinta. Allora io ci posso ritornare anche se lo faccio a malicuore perché sono solito guardare la partita prossima e non quella giocata, anche perché è la partita giocata, comunque l'ho già commentata. Intanto abbiamo affrontato una squadra forte, soprattutto con quello che era il suo terreno, cioè le palline attive, questa aggressività nel gioco aereo, perché è una squadra molto strutturata. Abbiamo pagato secondo me un episodio comunque sfortunato. È una squadra a sud di tiro. Noi siamo stati un po' meno aggressivi e meno intensi del solito, però nell'arco che era la terza partita in otto giorni questo ci può stare. Con questo concetto mi riallaccio a quello che ho detto prima, che per noi una settimana giocare dopo le tre partite significa aver recuperato la migliore efficienza, le migliori energie, perché se noi andiamo sotto ritmo, sotto intensità, qualcosa paghiamo. Questo è innegabile, si è visto in più di un'occasione. Quindi ecco, si è verificato questo, che noi comunque la terza partita in otto giorni un po' a livello di brillantezza l'abbiamo pagata, fermo restando che comunque il risultato è stato deciso un episodio assolutamente casuale. Questa settimana, come ho detto prima, il fatto di aver ripristinato il ciclo normale ci ha permesso di recuperare energie che secondo me le possiamo spendere bene domani. Buongiorno Fabrizio, Giancarlo Pacini Umbria TV. Buongiorno. Il girone di andata, quando scese a Reggio, fece fare, fece arrabbiare, quantomeno Inzaghi, perché stava velliggiando molto bene nella sua navigazione. Quella vittoria cambiò un pochino i paradigmi. Ora arriva domani una regina che comunque ha iniziato il girone di ritorno, che parlare malissimo è un'effemismo. Quindi per il Perugia sarà un affrontare una squadra così in maniera più difficile, sapendo che tante sconfitte alla fine possono creare anche da parte della stessa regina, la squadra di Inzaghi, una forma di orgoglio che deve ritornare in riscatto. Difficile lo è ogni partita, sia che l'avversario abbia vinto o abbia perso, sia in un momento positivo che negativo. Però a prescindere da questo noi pensiamo a noi, che è la cosa più importante. E questo è quello che ho sempre detto, che noi dobbiamo essere concentrati su quello che dobbiamo fare noi in campo, su quello che possiamo fare noi per giocarci le nostre chance, le nostre prerogative. L'avversario ogni sette giorni cambia, troviamo avversari con molteplici situazioni, sia dati che momenti negativi o positivi. Quindi non possiamo correre dietro agli altri. Noi siamo concentrati sul nostro percorso, sul nostro cammino. Ho detto prima, sono convinto che domani la squadra non mi smentirà. La squadra questa settimana qui ha fatto un buon lavoro e per noi andare in campo, giocare a ritmo intenso, giocare in velocità, giocare come sappiamo fare noi, per me sono questi i fattori ai quali io presto più attenzione che no magari agli avversari che comunque meritano il massimo rispetto. Questo a prescindere. Lei è tornato un girone fa sulla panchina del Perugia e chiaramente i risultati si sono visti e lo testimonia anche la classifica. A livello proprio di squadra, di struttura di essa, cosa è cambiato secondo lei rispetto alla partita di andata? Per noi o per loro? Ma cosa è cambiato? In andata abbiamo una maggiore consapevolezza. Ci ha fatto un percorso di crescita sotto tutti i punti di vista. Poi è chiaro che i risultati portano anche autostima, portano fiducia e si affrontano le partite con una maggiore convinzione. Questo è pure un bilancio che io mi fermo qui perché poi contano le ultime partite. Quindi bisogna continuare, perseverare, insistere, anzi possibilmente migliorare qualcosa rispetto al recente passato per poter garantirci un finale di campionato che ci possa portare agli obiettivi. Ministro, un paio di considerazioni. Sempre l'altro giorno Santo Padre ha ribadito quanto sarà importante da qui alla fine del campionato il sostegno dei vostri tifosi. Insomma, immagino anche per lei sia molto importante. E poi l'altra considerazione, come è nata questa intuizione o scelta di casa sola rigorista? Grazie. Allora, l'apporto dei tifosi è fondamentale, è importantissimo perché possono incidere a livello morale, a livello di entusiasmo, a livello di convinzione. A volte una squadra spinta dai tifosi riesce a dare anche quelle marce in più o superare quei momenti di difficoltà che comunque sono propri delle partite. Ma casa sola rigorista è nato per caso, nel senso che a Cagliari il rigorista designato era Strizzolo, che si era procurato il rigore ma si era fatto male sul calcio di rigore. E quindi in quel momento lui ha preso il pallone, l'ha calciato, ha tirato bene il rigore. Poi, ecco, speriamo che continui a segnali, però anche qui stiamo attenti a fare troppe considerazioni. Fino ad adesso è nato casualmente, però ha dimostrato poi di saperli calciare. a quella freddezza necessaria che gli permette di portarsi in quelle condizioni lì, ma ne è giusta. Però, ecco, non mi piace, anche questo è un consuntivo che non mi piace farlo. Parliamo per quello che ha fatto. È nato per caso e speriamo che continui. Sì, senza entrare sul discorso nomi, la prova di Iannunio la scorsa settimana è stata un'altra volta confortante. La crescita del giocatore è evidente. Quanto ci punta su un giocatore del genere? Ci puntiamo molto noi su lui, su Santoro, su tutti, perché su questi più giovani, Olivieri, Di Serio, lo stesso Egon, Paz, Cancellieri, Vulichici, i ragazzi rappresentano comunque un futuro per la società, no? E poi è chiaro che loro vanno un po' aiutati, vanno supportati, perché la fiducia ce l'hanno. A volte il giovane, a differenza di un giocatore più maturo, fa un po' di alti e bassi, magari riesce a fare due o tre prestazioni eccellenti, poi dopo gara il rendimento. Però ecco, questo appartiene un po' alla categoria del ragazzo, no? Cioè, i giovani hanno questa prerogativa, a volte si infiammano, si accendono l'entusiasmo, poi magari a volte perdono un po' dimensione e la continuità avverrà solo giocando, insomma, ecco. Quindi Iannuni rappresenta un giovane molto interessante di questo gruppo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.